Noi siamo contenti di questa stampa internazionale che racconta di Napoli, racconta di una città seducente, di una città piena di fasce, una città bella, complessa, straordinaria, da vivere e da visitare. Quindi Napoli va raccontata bene, ma va soprattutto vissuta e visitata. Noi siamo contenti che da alcuni mesi c'è un'onda piena di turisti nella nostra città. È un trend positivo che vogliamo mantenere e impegnare il massimo di energie organizzative possibili in questa direzione.